No, Nick, ti prego, fermati, no, 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 Nick, no, no, fermati, no, ti prego, no, fermati, guarda che disastro, Nick, ma perché l'hai fatto? Ma cosa hai nel cervello? Le marmotte urlatrici, povero Don Flamingo, ma guarda che buco enorme hai in mezzo, ma cosa sarà successo le carte? Scopriamolo, ma ho sinceramente paura, io vi avverto, ci sarà molto da piangere, mi raccomando, non dimenticate di iscrizione al canale, è il momento della verità. Oh mio Dio, ora inizia la vera e propria paura, sembrano quasi sparate, sembra un buco di un proiettile, oddio c'era qualcosa? No, studenti di baldea, no, Pikachu tocca a te, amore mio, faccio nemmeno il trick, mi vergogno, Nemi, Caramella Rara, Kimi Ghoul e Annipi Leip, ok ci siamo salvati, Beh dai alla fine dei conti poteva andare decisamente peggio Bruh Grazie a tutti.